... Espressione di bellezza, di arte e tendenze da sempre specchio dei tempi, The Call, si riprende il podio dei calendari dopo un anno di pausa per Covid. Chiama e raccolta stelle della musica che si rimettono in tour. Icone come Cherry, G-Pop, 70 anni di ferro. Very creative. Musical photographer. Lei è lo specchio di un camerino, lui dipinto d'argento, pronto ad andare in scena. E poi Rita Ora, Jennifer Hudson e Sam Vincent, l'artista nella solitudine di una camera d'albello. Tappe di un viaggio, di un tour che ricomincia On the Road, titolo del calendario e di un brano dedicato. L'idea era quella di creare dei frammenti di una giornata in viaggio. Tre giorni di scatti a Los Angeles, uno a capo e fine luglio con So Itty. E lui, Brian Adams, al chiudere il tour, a chiudere il calendario che accompagnerà i 150 anni dell'azienda. Questo calendario ha un messaggio di realtà, un messaggio di ricerca di una vita normale. Così l'ha immaginata Brian Adams, rock star con la passione per la fotografia, costretto in quarantena per Covid, alla vigilia della presentazione.